La replica e a rispondere è stato il vice governatore Michele Petraroia, il quale ha ricordato a Iorio l'ormai noto buco da 1 miliardo e 300 milioni di euro nel rendiconto 2011, bocciato dalla consulta. Ma io non credo che al Molise servono polemiche. Io immagino che il Consiglio dei Ministri, preseduto da Mario Mondi, ex lettore della Bocconi, di tutto può essere accusato, ma non è di superficialità né di approssimazione. Se hanno fatto l'impugnativa del bilancio consuntivo della regione Molise è perché avevano individuato dei punti di debolezza e di difficoltà. Se addirittura la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile il ricorso del governo e ha bocciato l'articolo 7 di un bilancio consuntivo di una regione e non era mai accaduto prima in Italia, e l'articolo 7 è quello per l'appunto dove si dice che sono sovrastimati i residui attivi per 1 miliardo e 286 milioni di euro, Io spero per il bene del Molise che abbia ragione Michele Iorio, ma dalla riunione che abbiamo fatto a Roma con il Vice Ministro Fassino e anche con i dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato è venuto fuori che ci deve essere un controllo accurato perché tutte quelle poste finanziarie che ci sono state messe in attività e che in realtà sono sovrastimate possono determinare che nel lato della passività e delle uscite ci sono state delle operazioni che a questo punto potrebbero far venire fuori anche una situazione di disavanzi da coprire o di dissesto su cui evidentemente dobbiamo stare molto molto attenti.